Leggera contrazione del numero dei disoccupati in Francia. A registrarla sono i dati del Ministero del Lavoro, riferiti a luglio. Gli iscritti alla categoria A, per distinguerli da chi ha almeno un impiego part-time, sono scesi di 1.900 unità. Un calo dello 0,1% che però sfuma in un aumento dello 0,3% se si aggiungono le altre categorie. Lungi dal cantar vittoria, il governo di Parigi parla di stabilizzazione della curva, in linea con i risultati economici. Nel primo trimestre la crescita era stata dello 0,7% e i posti di lavoro creati erano stati 27.000.